Il mio corpo che mi aspettava. Ero alla guida della mia utilitaria, non è stato per un incidente, ero accaldata e sudata, era estate, mi sono fermata accanto a un marciapiedi per riprendere fiato. Soffro di pressione bassa e quando fa caldo mi capita spesso di sentirmi molto stanca. Ho fatto appena in tempo a spegnere il motore che sono sprofondata nell'incoscienza. Sprofondata non è il termine giusto perché ho provato la sensazione di librarmi al di sopra del mio corpo fino a vedere una panoramica della zona dove si trovava la mia auto. Ricordo ancora che provavo stupore ma non paura. Soffro di vertigini ma trovai quel volo piacevolissimo. Poi ricordo una specie di corridoio buio e una voce dentro di me che mi ingiungeva di non percorrerlo perché non era ancora arrivato il mio momento. Allora tornai verso l'auto e il mio corpo che mi aspettava. Perché mi è successo questo? Commento. Perché ormai eri pronta per l'uscita dal tuo corpo che ti convincesse di quanto sia illusorio credere che dopo la morte del corpo fisico ci sia il nulla. Grazie a tutti.